Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale Anche oggi siamo qui con un nuovo video ragazzi Oggi siamo qui per fare un pack opening Alla ricerca ragazzi di Zlatan Ibrahimovic Second inform Il primo inform ragazzi l'avevamo trovato L'avevamo spacchettato se vi ricordate Non so più basta, cioè mi sta passando la voglia Veramente, non so più cos'è Ibra! Vibra! 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 Parca puttana! Parca puttana! Mamma mia che animale! 78 di velocità 95 di tiro, 90 di dribbling 84 anni di passaggio 90 di fisico ragazzi, una cosa pazzesca Qui di fianco l'altra volta c'era Ronaldo Stryker, stavolta abbiamo Giroud Quindi più o meno siamo lì insomma Comunque ci sono altri giocatori C'è Mata ragazzi, c'è Piqué, c'è Fernando, quindi comunque Alcuni giocatori buoni ci sono lo stesso C'è Kane che ormai ha 800.000 versioni in forme C'è Saponara ragazzi Ma iniziamo subito Andiamo ad aprire subito qualche pacchetto Altro pack, altro pack Ah ah ah, altro pack Altro pack Skippiamo! Kane Terò, bacca la lana E vaffan cuore Ecco troviamo anche Ma porca puttana Troviamo uno svedese Ma non è Ibrahimovic Cioè ci stanno prendendo Letteralmente per il culo ragazzi Mamma mia Dai Unif cazzo Dai Unif per favore Dai Unif Dai Unif Dai Unif Dai Unif Tutti sti svedesi Non c'è Ibrahimovic Porca puttana Porca Un altro Fernand Es però Fernand Es non è Fernando Ma è Fernand Es ma vaffanculo Altro pack Anche questo lo guardiamo Non lo schippiamo Tanto qui non troviamo un cazzo Carvajal Vlar e Carvajal Mamma mia Mamma mia E un altro svedese ragazzi E un altro svedese Cioè Qui ci stanno prendendo Letteralmente per il culo Abbiamo trovato Trasvedesi Cioè Trasvedesi Cristo Dio Cioè Muori cazzo Muori Perché Perché Trash Vargas E trash Dai cazzo Adesso Schippiamo Falcao Che non costa un cazzo Un 88 di merda Vaffanculo Vediamo Un K11K Cioè Un 88 Un K11K Dovete scoppiare Veramente Mamma mia Che schifo Porca troia Altro pack Da 7 e mezzo Schippiamo Andano Apriamo il pack Argento regalo Magari viene fuori un if Così Saponara Magari No viene fuori Alambo E Touré Ragazzi Anche Touré Altro pack Da 7 e mezzo Vediamo Oh Cross Ramis Subasic Ma cross Ragazzi Vediamo quanto costa Cross Ovviamente Cioè Riproviamoci Con quello Da 35K Attenzione Non guardiamo Stavolta E Boom Maxim 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 Ragazzi Attenzione Vediamo quanto costa Maxim 15 30K Va bene lo stesso Vediamo se c'è Contratti di merda Fanculo Ma un altro if Va bene lo stesso Dai Riproviamo Ultimo pack Da 35K Ragazzi Se va male qui È finita Chiudiamo qui Attenzione Burki Vediamo se c'è Qualcos'altro Podoski Rodriguez Sissoko Burki Vediamo Costerà 10K 10K Prezzo minimo Infatti E Nient'altro Ragazzi E nient'altro Apriamo un pack Da 35K Vediamo cosa succede Attenzione Mata 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 Cazzo Quanto costa Vediamo Mata 75 150 Ma Non aspettavo di più Ma Va bene lo stesso Dai Almeno Qualcosina Porca boia Vediamo se c'è Qualcos'altro Mille crediti Vabbè Meglio che niente Ragazzi Mata Meglio che niente Bene ragazzi Se questo video vi è piaciuto Come sempre Lasciate un bel mi piace Non abbiamo trovato niente Siamo stati un po' Sfortunati Comunque Mata E altri due Inform Fa il caos Sai che roba Vabbè E quindi ragazzi Un bel ecco bel commento Se avete bisogno di crediti Passate in descrizione C'è la mia pagina Facebook Contattatemi direttamente Lì ragazzi E Ne parliamo insomma Solamente per PS4 Perché ho quella console lì E se siete nuovi Mi raccomando Iscrivetevi al canale E noi come sempre Ci vediamo al prossimo video Bella Ciao